L'anno che sta per finire è sicuramente stato un anno complesso, duro, con molte problematiche. L'anno che verrà non sarà da meno. Ciò nonostante bisogna essere fiduciosi, bisogna essere uniti e bisogna essere coscienti che abbiamo i mezzi e la forza per superare tutte le avversità che ci possono venire incontro. Detto questo coigo l'occasione per fare gli auguri di un sereno e felice Natale a tutti gli iscritti alla mia organizzazione, alla FITCISLE e a tutti i ferroviari. Auguri, buon anno.